La votazione finale assegnata a questo prodotto di Sony è di 8 voti su 10. Al momento è il più esclusivo di questa selezione. Questo articolo ha tutte le caratteristiche di cui hai bisogno per svolgere appieno le sue funzioni. Il prezzo di questo articolo, insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video. Canon, con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 8.6 su 10. Risulta essere il più scontato di questa selezione. Le sue funzionalità sono. Durata della batteria. Zoom. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Facile da usare. Schermo touch. Versatilità. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Nikon ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 7.8 su 10. Risulta al momento essere il più venduto online. I suoi pregi sono. Facile da usare. Zoom. Versatilità. Durata della batteria. Puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video. La valutazione di questo prodotto di Sony è di 8.8 voti su 10. Risulta essere il migliore di questa selezione. Ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono. Ergonomico. Luminosità. Messa a fuoco automatica. Durata della batteria. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Controllo remoto. Se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Il voto complessivo di questo articolo di Nikon è di 8.2 su 10. Risulta al momento essere il più desiderato. I punti di forza sono. Facile da usare. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Zoom. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato. Questo articolo di Sony ha riscontrato una valutazione di 8.4 su 10 totali. Risulta avere il miglior rapporto qualità-prezzo. Le sue principali funzionalità sono. Facile da usare. Durata della batteria. Zoom. Versatilità. Qualità dell'immagine. Messa a fuoco automatica. Se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video. Il voto complessivo assegnato a questo articolo di Fujifilm è di 8.4 su 10. Risulta essere al momento il prodotto più regalato. Le sue qualità sono. Facile da usare. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Impermeabile. Durata della batteria. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video. Grazie a tutti.